Una stagione emozionante, una stagione da incorniciare, una promozione stupenda per la Lavagnese. Sì, siamo molto molto contenti per questo successo, per il ritorno in Serie D, perché riteniamo che è la categoria che ci si associa di più. Non è stato semplice perché il campionato era partito un po' sottovoce, poi con la sostituzione del tecnico è arrivato Alberto Ruvo che ha dato veramente quel quid in più che ci ha permesso di fare un salto di qualità, naturalmente i giocatori in campo hanno fatto la loro parte e siamo riusciti, nonostante lo score dell'Albenga che meritatamente ha vinto il campionato, a raggiungere il secondo posto, quindi l'accesso alle finale nazionali play-off. Play-off dove abbiamo incontrato il Borgo Manero, vittoria all'andata e vittoria a ritorno e poi la finale che è stata davvero molto thrilling, ma noi siamo stati davvero attenti, preparati, soprattutto nel ritorno perché all'andata avevamo fatto 1-1 contro il Mappello, una squadra davvero ben organizzata, soprattutto dal centro campo in avanti, poi a Mappello siamo stati superiori e abbiamo davvero dimostrato di avere quelle qualità che ci hanno permesso di raggiungere l'obiettivo della Serie D. Un riconoscimento strameritato per la grande passione del vostro Presidente Stefano Compagnoni che dopo la sfortunata stagione scorsa ha voluto scommettere ancora su questa grande squadra. Al primo posto io metterei sempre il nostro Presidente che con tanta passione da oltre 25 anni è al timone di questa società, ma vorrei rimarcare che quest'anno ho visto soprattutto al rientro del Pullman da Mappello tantissimi giovanissimi, tantissimi ragazzi che hanno accolto il Pullman con un entusiasmo che non si era mai visto a Lavagna e questo naturalmente è una testimonianza di grande prospettiva per quello che sarà poi il domani perché senza il pubblico, senza l'attenzione della gente, manca sempre quel dodicesimo uomo che ti permette di raggiungere gli obiettivi. I giovani, ricordiamo, sono l'infa fondamentale. Sì, noi puntiamo sempre molto su un settore giovanile importante, abbiamo una squadra di tecnici davvero di prima qualità e sarà sempre così e soprattutto dal prossimo anno, quindi quando saremo i nastri della partenza della Serie D.